Nell'ambito dei festeggiamenti di San Pietro Apostolo, patrono di Modica, ieri sera sono stati presentati i lavori di restauro della tela ritrovata nella sagrestia del Duomo a gennaio scorso e che rappresenta il martirio di San Pietro. È stato possibile anche vedere l'avanzamento degli stessi all'interno del laboratorio di restauro che è allestito in chiesa. Una serata dedicata alla tela ritrovata presso il Duomo di San Pietro a Modica nell'ambito delle manifestazioni in onore del santo patrono. Ieri sera si è tenuta una conferenza dal titolo del martirio di San Pietro, la tela ritrovata. Il convegno ha avuto come tema l'importante dipinto rinvenuto a gennaio di quest'anno in maniera fortunosa presso i locali della sagrestia, conservato in una intercapedine nascosto da decenni. L'opera raffigurante il martirio dell'Apostolo, databile al XVII secolo, è oggi in fase di restauro grazie a un contributo erogato dalla regione siciliana. Diversi gli interventi che hanno illustrato le ultime ricerche storiche svolte sull'opera, lo stato di conservazione e gli ultimi interventi di restauro. Il contesto è quello delle iniziative di valorizzazione culturale svolte dalla parrocchia San Pietro Apostolo con l'associazione La Via delle Collegiate. Un restauro fondamentale che restituisce alla città di Modica un tassello importante del patrimonio culturale e religioso. Un dipinto riferibile al 1600, quindi al periodo pre-terremoto e per tale merita una doppia attenzione, essendo che quel periodo della storia del nostro territorio, a causa di quel tragico evento, ci rimane ancora oggi un po' sconosciuto. Con questo restauro cerchiamo di conoscere qualcosa di più. Ieri è stato anche possibile visitare il laboratorio di restauro realizzato per l'occasione presso il Duomo di San Pietro. L'intervento di restauro si inserisce in iniziative di recupero del patrimonio culturale e religioso della città di Modica, fortemente voluto e coordinato dalla parrocchia e dalle associazioni La Via delle Collegiate e Petra Mazzara. Questa sera si corona un po' un sogno per la nostra associazione, in quanto questo dipinto è stato fortemente, il suo restauro è stato fortemente voluto da tutti i nostri associati e grazie alla volontà delle istituzioni siamo riusciti a concretizzare in breve tempo un sogno. Di questo ne siamo veramente felici, ringraziamo le istituzioni che sono impegnate nel reperimento dei fondi e nello svolgimento positivo di questo restauro.